Buongiorno, bentrovati, benvenuti a questo nuovo appuntamento con filo diretto, mezz'ora a nostra disposizione per commentare le vicende a cui teniamo di più, le vicende che sono un po' anche le notizie del giorno o quelle cose che condizionano la nostra vita. Oggi è il primo marzo, ci sono ancora due giorni, oggi e domani di campagna elettorale, poi finalmente domenica si andrà a votare e lunedì ricominceremo a vivere normalmente, a poter commentare tutto quello che ci viene in mente. In questo periodo, voi sapete, questi ultimi due giorni soprattutto c'era par condicio, io spero che passi il prima possibile a questa storia, così si può ritornare a parlare liberamente. Il nostro numero telefonico è 0131 23 10 92, sempre sulla vicenda politica vorrei dire che non è semplicissimo, però cominciate a orientarvi su come si vota. Non ci sono tantissime possibilità di scelta, c'è da mettere 1, 2X, però fatelo bene in modo che il voto sia valido. Sentiamo la prima chiamata. Pronto? Pronto? Io non sento, sento un effetto speciale. Buongiorno signor Vinci. Eccoci, pronto? Sì. Buongiorno, da dove ci chiama? Buongiorno signor Vinci, da Alessandria. La sento un po' piano, chiedo in regia se è possibile alzare leggermente il volume senza far fischiare il microfono. Io non so se ho un problema, ho due dito, però chiedo sempre di alzare il volume e poi rischia di fischiare il microfono. Sentiamo, diceva buongiorno da dove ci chiama? Buongiorno a lei. Sì. Innanzitutto volevo consigliarvi di ammodernarvi un po' con il sistema audio, sembra un po' retro. Retro? Comunque a parte quello. No, l'altro ieri c'era stato uno scambio di microfoni. Sì, no ma guardi, posso dirle questo io, solo chi non lavora non sbaglia mai. Ah, ecco. Ecco, volevo chiederle una cosa e sapere cosa lei ne pensa, ma di tutti questi valori che si parla, in cui si dice facciamo questo, diminuiamo quello, interveniamo su quest'altro, però non ho mai sentito dire abbassiamo l'IVA. Come mai? Sarebbe la cosa più opportuna, penso io, senza stare lì e fare tante disquisizioni filosofiche, no? Per cercare di, non dico circuire la gente, ma quasi tarle a proprio vantaggio. Lei che ne pensa? Beh, sono, guardi, il problema delle tasse, innanzitutto la ringrazio per la telefonata e per la domanda, perché ci dà l'opportunità di chiarire qual è la differenza anche tra gli italiani e il resto del mondo. In tutto il mondo il problema delle tasse è il problema centrale, no? Si tenta di alleggerire la pressione fiscale perché tutte le volte che si toglie un punto o la pressione fiscale in qualche modo si lascia a disposizione della gente un margine di ricchezza, diciamo, in pratica più soldi che permettono di aumentare i consumi, che permettono quindi di comprare tutto ciò che producono, che so io, le industrie, gli agricoltori, eccetera, eccetera, e questo mette in moto l'economia, rende un po' più ricchi tutti. Ogni volta che la tassazione supera quel livello di normalità che è naturalmente giusto che ci sia per ottenere dei servizi, ecco, allora diventa una specie di depauperamento, no? In pratica si impoverisce la ricchezza di tutta la gente e ci sono meno soldi in circolazione perché vanno tutti a sostegno di una cosa che magari è sovradimensionata, come la macchina dello Stato. Allora, le campagne elettorali dovrebbero essere anche prese in considerazione da noi soltanto nel caso in cui ci promettono e poi mantengono naturalmente di diminuire le tasse, IVA naturalmente è compresa. Sentiamo un'altra chiamata. Pronto? Pronto, buongiorno. Sono Rosalba, abito in Via Dossena. Ho 75 anni e vado a votare. Certo, bene. E vorrei dire una cosa, agli alessandrini, agli italiani, non credete a chi fa troppe promesse perché non è possibile mantenerle qui in Italia. Ragioniamoci sopra, forse è meglio accontentarsi di chi fa piccole promesse e magari piano piano l'Italia può andare avanti, ma chi fa tante promesse non potrà mai mantenerle. Grazie signora, grazie per il suggerimento, per la riflessione. Penso che la cosa sia condivisa al punto che oggi parecchi giornali in prima pagina pubblicano proprio una riflessione su questo fatto, sulle promesse che vengono ripetute in ogni campagna elettorale, un po' da tutti, non è che c'è qualcuno che ne fa di più, un po' da tutti e che poi ovviamente non vengono messe in atto successivamente. Sembra un gioco incomprensibile questo, di fare la promessa e poi non mantenerla. Il problema è che sono tutti concentrati al momento di essere eletti e poi dopo perdono di vista l'obiettivo dopo che si sono seduti su queste poltrone. Allora cominciamo, come diceva la signora, a pensare ai piccoli obiettivi, quelli che possono essere risolutivi per la qualità della vita, quelli che insomma in qualche modo intervengono su quelle vicende che si stanno rendendo la vita difficile. Ecco, concentriamoci su chi ci promette una soluzione perfetta, non su chi fa grandi o promesse, grandi ai ditti. Noi vogliamo una soluzione immediata, la prima, che ci semplifichi la vita. Ecco, questo è quello che dovrebbe portarci a scegliere per chi votare. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Sì, buongiorno. Da dove ci chiama? Buongiorno. Sono Maurizio da San Michele. Da San Michele. Volevo fare un'osservazione, visto che comunque sia i telegiornali, televisione non ne hanno parlato. Sì. Quest'anno a San Michele 3 troveremo una novità, il tagliando antifrode, che assolutamente gli elettori non devono staccare, che è un bollino a fondo numerico che viene applicato sull'appendice di ciascuna scheda. Come mai di questo fatto non ne hanno parlato nessuno, ha parlato di questa cosa? Sì, in effetti se ne è trattato molto poco, ma io credo che sul metodo di votazione si sia parlato poco in genere. Forse perché si sa che queste elezioni comunque sono provvisorie e tra poco ce ne saranno delle altre. Però in effetti è una cosa giusta, questo numero, questo adesivo che è stato messo sulle schede e che sarà tolto solo all'ultimo secondo prima di imbucarle nell'urna, questa cosa comporterà ulteriori rallentamenti nel procedimento della votazione. Sì, peraltro, anche perché se l'elettore non sa di che cosa si tratta, comunque lo possa staccare, quindi c'è anche l'annullamento della scheda del voto. Certo, sì, diventa annullo. Grazie per il suggerimento. In effetti io vi consiglio, perché ovviamente televisioni, compresa la nostra, fanno una campagna di informazione sul metodo di votazione. C'è un video istituzionale sul sito del governo italiano, ma anche su quello delle prefetture, credo che ci insegna come bisogna votare per non rendere nullo e vanificare, quindi il nostro sforzo anche di essere usciti di casa e di essere andati nel seggio a votare. Bisognerebbe guardare su internet, chi è che ha un telefonino o un computer, no? Magari andate a cercare come funziona la vicenda delle votazioni e così forse quando arriverete lì davanti non vi troverete davanti a una situazione imprevista. Anche solo per studiare come è formata la scheda elettorale. Per riflettere prima, ci sono simboli, sapete, che delle volte sono quasi completamente sconosciuti. Sentiamo un altro telefonato. Pronto? Sono Piero, buongiorno. Buongiorno, Piero. Potete fare una trasmissione per veloci dare un po' la faccenda delle votazioni. Poi volevo dire una cosa, tutta questa gente che parla, io seguo poco perché poi non mi piace stare a sentire tutte queste baller che raccontano, nessuno parla di evasione fiscale. Io ho seguito una trasmissione su quante storie sul terzo, c'era un professore fiscalista, ha detto che se si togliesse solo l'8% di evasione fiscale in pochi anni viene pagato il debito pubblico. Perché questi partiti non parlano di evasione fiscale? Che sarebbe un po' il noccello della questione di tutto l'andazzo. A parte che loro non vanno a casa, perciò bisogna mantenerli tutti. Però almeno facciano le cose da non dover sempre dare tutti questi debiti. Buongiorno. Grazie, grazie, buongiorno. L'evasione fiscale però è una cosa molto difficile su cui intervenire, è facile intervenire sul scontrino che non viene rilasciato dal bar, molto più difficile intervenire quando ci sono collegi di avvocati che intervengono per proteggere i grandi interessi, quelli della grande economia. C'è in questo momento una specie di gara internazionale per capire come fare a favorire l'arrivo di capitali, a favorire l'esistenza di grandi aziende che danno comunque lavoro e poterle tassare nella maniera giusta. Però l'evasione fiscale o comunque quelli che una volta erano gli aspetti anche penali nell'evasione fiscale sono stati molto ridotti, molto anacquati. Forse non è nell'interesse di nessuno di quelli che stanno lì sopra farle più rigide queste regole e anche perseguire la vera evasione fiscale che è quella delle grandi cifre e non quella delle piccole cifre. Se diamo un'altra chiamata, pronto? Buongiorno, sono rizzato da Alessandria, di via Scazzola, sono quella che rompe sempre. Mi chiede a sentire, quella signora ha parlato bene, quella signora anziana ha parlato bene, ma dopo 60 anni che non ho avuto ancora niente, cos'è che pretendono dai governatori? Cosa pretendiamo dai governatori? Dopo 60 anni io non ho ancora niente. Lei sa come sono piazzata io e ve l'ho già detto tante volte, ma cos'è che vogliamo dai governatori? Niente, perché non ci danno niente. Salve Vinci. Grazie signora per la segnalazione e per averci ricordato il fatto che in effetti da sempre sono stati molti pochi gli interventi in favore di un miglioramento della situazione generale. Avete visto tutto ciò che è successo nell'ambito delle comunicazioni ferroviarie per un po' di neve che è arrivata nei posti dove non erano abituati ad avere la neve. Avete visto tutto ciò che sta succedendo per la mancanza di manutenzione in molte situazioni, dal crolli alle frane, eccetera, eccetera. Però ancora più grave ritengo che ci sia tutta una nuova generazione di ragazzi che meriterebbe di poter trovare un posto di lavoro e che se non si mette in moto l'economia non troveranno. E questa è la cosa più grave, questa è la cosa che avrà delle conseguenze per 5, 6 o 10 anni al massimo in cui l'economia sarà veramente ridotta in un modo che non permetterà più a nessuno o a gran parte di italiani di poter avere una famiglia, di poter comprare una casa e fare tutte queste cose se non avrà un lavoro vero. Oggi c'è la notizia che forse sta diminuendo la disoccupazione, che forse ci sono delle buone prospettive dal punto di vista economico ma che secondo me dipendono molto da quello che fanno gli altri paesi che ci trascinano questa volta verso l'alto per fortuna. Passiamo a un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Io ho il telefono perché l'ho letto oggi sul giornale locale che mettono dei visori per dare l'attenzione agli automobilisti che ci sono le squish pedonali. Io abito quasi a Solero sulla strada. La sento un po' piano, parli un po' più forte. Sì, mi chiedo scusa. Io abito sulla strada di San Michele per Solero e abbiamo anche noi tre o quattro visori sulla strada per queste strisce pedonali. Il vento li ha girate cinque anni fa, sono rivolte all'incontrario e bene o male abbiamo chiamato la provincia perché sono sotto gestione la provincia. Non è mai venuto nessuno a metterli a posto. E bene o male mi chiedo che adesso li mettono anche il Comune in Alessandria sono di nuovo forse dei soldi di dispersione e basta perché poi dopo le manutenzioni non gliele fanno quando succedono i problemi nessuno le mette a posto. Grazie. Grazie, grazie per la segnalazione. In effetti anche questo è quello che dicevamo l'altro ieri. Noi oramai siamo stanchi di ripetere che le segnaletiche stradali andrebbero curate di più. La competenza distribuita tra strade comunali, provinciali, autostrada, autostrada X e autostrada Y che si incrociano quindi competenze diverse fanno sì che poi la segnaletica non è assolutamente all'altezza. A me è capitato l'altra sera di andare a Sezzadio dove non è un posto lontanissimo da Alessandria e su una direttiva importante verso Acquiterme, città turistica eccetera eccetera pioviginava, c'era un po' di nebbia e i cartelli dove c'era segnalato l'indicazione per prendere la strada giusta, lo svincolo, erano completamente sbiaditi. Cioè neanche con la luce dell'automobile, quindi con gli abbaglianti, si illuminavano. Normalmente queste indicazioni stradali dovrebbero essere tipo fluorescenti, quando arrivano le luci della macchina si dovrebbero illuminare, invece niente, completamente sbiadite. Ma questo succede da anni. Io abito qua, naturalmente conosco le strade, ma pensate chi non abita da queste parti che deve prendere a uno svincolo, deve scegliere da che parte andare e non vede l'indicazione giusta. O tutte queste indicazioni forvianti, Alessandria si può arrivare da fuori, Alessandria, 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 c'è scritto da tutte le parti, ma uno non sa se arriva all'Alessandria Nord, Alessandria Sud, Est, Ovest. Tutta una serie di problemi anche sull'indicazione che poi ti dicono sì, Alessandria sta da questa parte, però poi improvvisamente ti trovi davanti a un bivio che dice Torino-Genova, Piacenza-Brescia. E tu dici, e allora Alessandria dove l'hanno spostata? Da che parte starà? Uno deve conoscere la cartina memoria. Sentiamo un'altra chiamata. Pronto? Signor Vinci, buongiorno. Buongiorno. A proposito di tutto quello che giustamente lei dice, io vorrei chiederle, i nostri operatori ecologici, se dobbiamo ricercarli su chi li ha visti, e il sindaco chi l'ha visto, perché mi dà l'impressione che Alessandria non sia neanche più dalla cartina geografica. È la mia impressione, io sono nato qui, spero di morire qui, però avrei il piacere, come me, tante persone, di vedere almeno qualche cosa di cambiamento, non chiedo molto, un po' d'ordine, un po' di civiltà, da parte del Comune, verso i suoi cittadini che l'hanno votato, ma io non ho votato più nessuno, sono tranquillo. Stia bene, buongiorno. Grazie, grazie, buongiorno. Beh, l'insoddisfazione generale di tutti noi che sentiamo dire tutti i giorni promozione turistica, Alessandria deve essere, come un po' tutte le città devono essere promosse dal punto di vista turistico, e tutto, no? Serve a rendere più nota una città e anche l'esistenza di una città. Voglio dire, se l'Alessandria Calcio arriva a un certo livello, o se la Juventus vince la Coppa dei Campioni o arriva lì in alto, Torino diventa più famosa nel mondo, in Europa, e Alessandria, se vince la Coppa Italia o se arriva in Serie B, diventerà inevitabilmente più famosa, più nota. Se staremo sempre, diciamo, in una zona buia, un po' oscura, nessuno si ricorderà neanche che esistiamo. Ma questo significa anche iniziative di un certo livello. abbiamo parlato in questi giorni di Ale Comics, che comunque è un'attrazione per decine di migliaia di persone. Mi sembra che gli amministratori dovrebbero occuparsi di questo, così come della cittadella, quindi riparare questo ponte. Adesso il problema del ponte che è stato dichiarato inagibile oramai esiste da mesi, però ci sono anche i soldi a questo punto, credo, per aggiustarli. Certo, gli iter burocratici per metterlo a posto, i progetti, gli interventi, le gare d'appalto, tutto quanto in questo paese è talmente difficile che l'intervento rischia di farci passare. Un'altra estate senza grandi avvenimenti, la cancellazione di quelli che già erano stati fatti negli anni passati e che avevano avuto un grande successo. Allora, la domanda è esistiamo ancora? Vogliamo esistere? Vogliamo diventare noti? Vogliamo diventare più famosi? Dobbiamo favorire anche gli interventi dei privati che aiutano la somma di tutti questi interventi del Presidente della squadra di calcio piuttosto che di coloro che organizzano un grande evento come Ale Comis servono, no? A rendere più popolare e più importante una città. Io non so se c'è l'altra telefonata se ho capito bene o no, però pronto? Ci provo. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Da dove ci chiama? Buongiorno, signor Vinci. Chiamo D'Alessandria, sono Gino. Buongiorno, Gino. Volevo chiedere una cosa a riproposito di quello che ha detto quel signore che non si vedono più gli spazzini. Secondo me non si vedono neanche più i vigili in giro perché tolto le multe che fanno gli ausiliari del traffico anche per una cosa mi sembra che non... Io come tanti avranno sul telefonino un'applicazione che lei digita una targa e vede se è assicurato o no questa macchina. Io ogni tanto così per curiosità ma ce ne sono parecchie che non sono assicurate cioè nessuno si preoccupa a parte il divieto di sosta di vedere appunto di multare questa gente o quelli che guidano telefonando i vigili in Alessandria sono spariti o saranno negli uffici forse non lo so sicuramente sono sottodimensioni adesso siamo in parco indice non si può parlare la settimana prossima parleremo esatto la settimana prossima finalmente saremo liberi grazie Gino per la telefonata prego buongiorno grazie beh c'è da dire che il problema dei vigili che sono sottodimensionati è noto da tanti anni ci andrebbe un numero doppio dei vigili per diciamo ottemperare a quello che è il minimo necessario per diciamo tenere d'occhio anche la città e offrire un certo tipo di servizi però se poi mancano i soldi non si possono assumere se il bilancio del comune non è sufficiente nelle entrate non si può spendere di più allora tutto resta sottodimensionale è quello che dicevo prima che in fondo la macchina dello Stato così come diciamo tutto l'apparato che già esiste per molti versi diciamo non proprio importantissimo per il funzionamento della città ma sovradimensionato poi va invece a incidere su quei servizi necessari che sarebbero anche più urgenti come la presenza di vigili in città una presenza superiore poi sappiamo quando ci sono le manifestazioni ormai di vigili non bastano la polizia chiaramente deve fare proprio mestiere e non basta abbiamo visto che ormai quando c'è una grossa manifestazione deve intervenire la protezione civile a controllare i varchi della città eccetera eccetera non è del tutto normale questo che dobbiamo sempre mobilitare della protezione civile sentiamo un'altra chiamata pronto? buongiorno pronto? si buongiorno da dove ci chiama? buongiorno chiamo D'Alessandria mi chiamo Margherita e volevo mettere una dire una cosina quel signore che dicevano prima che il sindaco non esiste eccetera eccetera basta un po' Tani ma sono usciti di casa questa mattina quel signore perché noi siamo usciti abbiamo visto primo il sottopasso di Via Maggioli che è un punto abbastanza pericoloso c'era 4 dita di sale quindi non un filino di neve di ghiaccio eccetera le strade purtroppo sono come sono è logico perché è medicato stanotte e poi abbiamo visto pulizia delle piante insomma qualche cosa l'abbiamo visto non si può dire proprio sempre che non fanno niente questi poveri sindaci e porca mia no? giusto giusto qualche cosa si è visto non è vero certi vigili bancano quello sì ma speriamo noi speriamo in seguito che ci sia un po' di controllo ok? grazie grazie per la telefonata e anche perché questo è importante no? che si dicano anche le cose che sono state risolte quelle che adesso funzionano è giusto segnalare le cose che non funzionano però è anche giusto dire ok adesso il problema è stato risolto cioè non dobbiamo chiamare solo per dire che ci sono problemi quando poi qualcuno è intervenuto l'ha risolto dobbiamo rendere merito dobbiamo ringraziare in via Maggioli c'era stato l'episodio del ghiaccio che era stato segnalato un po' su tutti i giornali che si era formato improvvisamente sono intervenuti operai ma con tanto di piccone con tanto di pala hanno ripulito dal ghiaccio e poi è stata messa la sabbia quindi il sale quindi a questo punto direi che l'intervento c'è stato ma come c'è in tantissime parti della città l'intervento degli operatori ecologici che lavorano pur avendo tutta una serie di problemi sui mezzi eccetera eccetera però comunque esiste è anche vero che in qualche zona qualche volta ci sono stati un po' di problemi di difficoltà ne abbiamo parlato più volte di via rivolta ma ci sono anche molte occasioni in cui tutto funziona siamo arrivati al termine adesso vi lascio il telegiornale ci rivediamo domani per l'ultima puntata preelettorale grazie per l'attenzione grazie per la visione